Ciao, io sono Ale, benvenuti, benvenute in questo mio nuovo video. Quest'oggi sono qui per fare un video con un po' di suoni naturali, nel senso che siccome teoricamente dovrebbe piovere fino un attimo fa, stava piovendo, ho lasciato la finestra un po' aperta per appunto sentirne il suono, però ora ho smesso l'alto di piovere, spero che ricominci, ma in ogni caso trovo sia comunque carino sentire un pochettino di suoni naturali, anche se magari si sente poco la pioggia e quindi appunto ho deciso di lasciare la finestra un po' aperta proprio per rendere questo video un po' diverso dagli altri e l'unica cosa perché potrebbero sentirsi dei cani ad abbagliare o altri rumori esterni chiaramente, però spero non siano troppi, ecco. E poi andrò a fare un po' di sussurri e un po' di brushing con due pennelli, di cui uno che non avete ancora mai visto qui sul canale e l'altro è questo invece, quello classico, che per il face brushing lo trovo davvero 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 ottimo, 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 ottimo. E quindi appunto andrò a fare un po' di mic brushing, un po' di face brushing. inizio quindi con questo nuovo pennello che ha il suo coperchio e poi ha questa copertatura che si può andare a togliere scurrendola, così. E trovo che facciamo un mic brushing molto, molto, molto delicato e piacevole. Ve lo cadere le sedule molto lupide e le lunghe, 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 che restano piuttosto soffici sul microfono e appunto ridono il suono. Più delicato rispetto a quello prodotto da altri pennelli. E intanto che ascolti questo mic brushing puoi sentire anche questi suoni della natura, il cinquantino degli uccelli e il suono della pioggia e del vento lo sento e tornano. il cinquantino degli uccelli e del vento e dell'in clingio. E come al solito cercherò di fare i suoni nella maniera più bineurale possibile, ossia da un orecchio all'altro, cercando di andare a separare tutto il suono. Trovo che questo brushing sia davvero tanto dedicato e apprezzabile magari anche da chi non ama particolarmente il classico Michael Brushing un po' più intenso, un po' più forte. Questo oggi ho messo come luce, una luce. Ma abbastanza già miti, diciamo, ne calda, ne fredda, per illuminare un po' e poi questa luce qui un po' di... per fare un po' un effetto diverso, un po' fucs, diciamo, ma non dare un po'... volate come luce. ... 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 con questi suoni della natura e questo mind brushing delicato, rilassati, 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 rilassati. In tutto ciò la pioggia non è tornata purtroppo, ma almeno per ora avrei voluto registrarla con la pioggia, ma ovviamente sia prima quando stavo per preparare il set trasmesso sia ora, siccome era tornato mi sono messo qui dentro, adesso dai prima no e registro, ovviamente ho messo subito, però niente, comunque avrò possibilità magari di registrare un altro video con la pioggia e questo è pur sempre un video diverso perché tanti suoni della natura che sostanzialmente non si sentono perché registrano la sera o comunque anche se registrano magari la mattina la finestra è sempre chiusa e di conseguenza appunto non si sentono tutti questi suoni, che comunque trovo che dei piedi esseri siano anche piacevoli, magari non in tutti, non sempre, però ogni tanto ho sentito un po' di suoni della natura ci stanno assolutamente bene secondo me. e ora direi che posso passare un po' di massaggio al viso, un po' di vis prasica per avvicinarti alla buonanotte. Buonanotte. Quindi prendo quest'altro pennello. E vado a farti un massaggio agli occhi, un massaggio agli occhi. per farteli chiudere dolcemente e nel frattempo stanno anche tornando un po' la pioggia per farti rilassare ulteriormente. per cui chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. buonanotte. 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 buona notte 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.